In un mondo aziendale in costante evoluzione, la riorganizzazione aziendale diventa un passaggio cruciale per rimanere competitivi. Questo processo inizia con un'analisi approfondita per identificare problemi e sfide seguita dalla definizione di una strategia mirata per affrontarli. È essenziale poi mettere in pratica le soluzioni con precisione e monitorare costantemente i progressi. Che si tratti di aumentare i profitti, prepararsi a fusioni o rispondere a cambiamenti di mercato, ogni riorganizzazione deve essere ben ponderata. A volte può comportare decisioni difficili come i licenziamenti, ma con la giusta valutazione e l'assistenza di consulenti esperti può portare a un'azienda più forte e più agile.